In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori barbecue in muratura. Gli amanti delle grigliate dovrebbero valutare la scelta di un barbecue in muratura, poiché la struttura chiusa e dotata di canna fumaria facilita l'accensione e il mantenimento del fuoco, senza rischiare che questo si spenga o si disperda a causa del vento se ci si trova all'aperto. Se ne possono trovare di varie dimensioni, tra cui scegliere in base allo spazio che si ha a disposizione. Alcuni modelli semplici hanno solamente lo spazio per il fuoco e la griglia, mentre altri hanno anche un van apposito in cui preparare le bracci per averle sempre pronte. Inoltre, i barbecue in muratura migliori consentono di montare diverse griglie o spiedi, per poter eseguire varie cotture contemporaneamente, e presentano diversi scomparti in cui tenere legna, carbonella e altri accessori.